Avete presente quando non riuscite a dormire e vi mettete a guardare video stupidi su Instagram Della gente che fa cose inutili Per esempio costruire un anello con un dado Beh Domani mattina lo vado a fare, buonanotte Buondi e benvenuti in questo nuovo video Quindi io partirei da... 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 all'adattarlo al mio dito Partiamo, buono, non lo so, metterò in questo dito qua 19 Forse un po' strettino Oh porca Allora da 19 non ce l'ho, quindi l'ho fatta da 20 No, ahia Scorso un casino Ora arriva la parte un po' più delicata Quella da limare tutti gli angoli e renderlo tondo tranne la parte In alto E lo si taglia Ora si rifinisce ancora un pochetto Ovviamente non sarebbe mio se non lo incidessi, quindi... incidiamolo Boh, proviamo Non riesco a eliminare tutti i graffi Cioè almeno non mi va perché ci vuole veramente tanto tempo Ho utilizzato... questo è tossico, è infiammabile, le ha tutte, quindi... È un inchiostro nero da pelle Quello che ho trovato, non so neanche se funzioni, però credo che si asciughi E... pitturiamolo tutto Per poi... andarlo a pulire Puliamo Se viene via Sì, viene via Farà un effetto tipo... Boh, vecchio Ed eccolo signori, l'ho finito Adesso vi faccio una presentazione figa Io sono molto contento del mio anello Però siccome non lo metterò mai Lo vado a regalare al mio nonno È per te È un regalo Mettitelo Provatelo A me piace solo d'oro È d'oro È argento puro al 100% È oro bianco Ciao